allora cari amiche cari amici leggo una intervista vecchia intervista presa da panorama del 2010 intervistatore e pierangelo buttafuoco intervistato e gian paolo panza e dico subito che su questo canale decimotoro i sostenitori della resistenza non troveranno spazio io sono obiettivo e mi sforzo al massimo con tutta onestà di essere obiettivo panza non ha mai ricevuto una querela ha documentato tutto quanto e siccome voi avete spazio su dalla boldrini alla rai a qualsiasi cosa su questo canale non troverete spazio perché questo canale cerca di scoprire e scoperchiare il vaso di pandora con tutte le bugie di questi decenni che ancora si continuano a ripetere su la resistenza che in realtà è stata una guerra civile l'articolo si intitola i fascisti ma cerco anche di rompere altri tabù come le bombe degli alleati e mi infischio di chi mi lancia anatemi l'intervistatore diceva pierangelo buttafuoco è un libro che si legge con il cuore in gola i vinti non dimenticano titolo del nuovo volume di gian paolo panza ci si fa largo tra morti ogni pagina una fossa e ci sono perfino preti che negano la benedizione ai condannati poi ci sono le donne tante tutte ridotte a carne su cui sbattere il macabro pedaggio dell'odio è un viaggio nella memoria negata quella della guerra civile altrimenti celebrata nella retorica della resistenza su cui panza ecco torna sopra per affidare al lettore una domanda si può essere antifascisti ossia per la libertà da tutti i regimi autoritari ed essere insieme comunisti ossia tifossi di un regime totalitario ecco una grande contraddizione che dopo 65 anni la retorica della resistenza non è più in grado di nascondere ancora una volta panza la magnifica quercia del giornalismo italiano ieri a fianco di eugenio scalfari oggi firma di libero e del riformista scherza panza non sarebbe male se davvero venisse cisnetta a mettere i soldi nel riformista sempre meglio che i rubri di macaluso e i cervetti panza dunque la bestia nera per tutti i conformisti eccolo classe 1935 gli storici specie quelli rossi non mi possono soffrire non gradiscono l'invasione di campo io sono il bambino che ha gridato il re è nudo e nuda è la verità ufficiale non ha tutte quelle braghi di gloria riguardo ai liberali ecco paolo mieli che è uno storico relativamente al mio lavoro è troppo intelligente per dire panza non dovrebbe scrivere i suoi libri ma forse neppure lo pensa e da presidente della rizzoli sarà pur contento che pubblico per lui libri di così grande successo domanda non può piacere costituzionalmente però questo tipo a prescindere dai comunisti infatti i vinti non dimenticano sfascia la ragione sociale della repubblica democratica nata dalla resistenza beh da questo punto di vista si risponde panza altro che questo libro l'ho scritto per rimediare come potevo ad una ingiustizia l'esclusione dalla storia italiana di tante migliaia di fascisti che avevano aderito alla repubblica sociale per la cultura dominante quella comunista non dovevano ricordare parlare e neanche esistere la mia colpa più grande insieme a quella di aver dato voce ai fascisti è un'altra aver posto il problema del partito comunista e del suo obiettivo nella guerra civile fare dell'italia un paese satellite dell'unione sovietica una verità storica che non può essere contestata ma sempre inaccettabile per la retorica sulla resistenza dipinta come un movimento unitario che mirava al ripristino della democrazia parlamentare anche nella sinistra che si chiara dichiara risormista questa verità semplice banale è ancora un tabù chi osa affermarla un falsario un fascista un eversore e un nemico come vedete questo è un articolo vi dicevo del 2010 cari amiche e cari amici la storia è sempre quella e continua a ripetersi a distanza di anni immediatamente se sei voce contraria sei fascista e sapete quanti insulti io ricevo come fascista e fascista non sono mi dispiace ma queste cose mi va di dirle perché sono un appassionato della verità e di raccontarle soprattutto ai giovani e in alternativa le menzogne che imparano a scuola vado avanti e napolitano a napolitano sono grato per una dichiarazione che fece mia difesa nel 2006 dopo che a reggio emilia alla presentazione della grande bugia alcuni presunti democratici guidati da un funzionario di rifondazione comunista si materializzarono all'hotel astoria perissare un lenzuolo color del sangue con sopra scritto triangolo rosso nessun rimorso i giovanotti vennero sconfitti dal pubblico e dopo la nota del quirinale ebbi la solidarietà anche di tre big del centro sinistra romano prodi pietro fassine walter vertroni buttafuoco a proposito di prodi nel libro c'è il racconto di un fratello in camicia nera il capitolo su giovanni prodi militare della repubblica sociale e poi finito nel campo di concentramento di coltano forse scandalizzerà qualcuno ma l'ho scritto con uno scopo narrare il percorso fatto da decine di migliaia di ragazzi italiani una parte dei quali nel dopoguerra ha preso una strada diversa da quella del fascismo presentare questo libro in incontri pubblici è difficile questa è l'epoca delle aggressioni anche a colpi di fumogeni tanti altri figli di magistratura di magistrati sono pronti alla vigilanza democratica ho capito meglio la sinistra di oggi studiando quella di ieri le tante sinistre odierne sembrano al tappeto sul punto di sparire ma non hanno perso l'arroganza degli vincitori del 1945 me ne sono reso conto anche sul piano personale dopo l'uscita del sangue dei vinti nel 2003 mi hanno accusato di tutte le nefandezze possibili la prima quella di aver scritto il falso per ingraziarmi berlusconi butta fuoco figurarsi berlusconi è il primo a indossare il fazzolettone da partigiano però la domanda è obbligata nel berlusconismo c'è una replica del fascismo panza ma dai ma non scherziamo sono incomparabili la prima fu un'epopea di popolo anche tragica quella di berlusconi è una stagione ma ha sbagliato e sbaglia ancora peraltro innescando reazioni più a destra che a sinistra domanda cosa è successo a panza da un decennio a questa parte ha improvvisamente convertito l'editoria del revisionismo panza niente di improvviso anzi mi occupo della guerra civile da sempre ho scritto la mia tesi di laura sullo stesso argomento ho voluto completare il ciclo iniziato dal sangue dei vinti dopo solo due mesi di uscita infatti mi erano arrivati dall'espresso dove lavoravano 2000 lettere il 90 per cento delle quali scritte da donne e tutte quelle pagine tra le righe sofferte anche sgrammaticate tornava sempre lo stesso tema caro dottor panza ho letto il suo libro ma non ho trovato la mia storia adesso gliela racconto ecco qui ci sono le storie che non avevo scritto in quel libro e nei libri successivi e quindi toscana venezia giulia trieste gorizia fiume poi piemonte emilia e liguria senza dimenticare quanto è costata la guerra sul versante degli alleati le vittime dei bombardamenti angolo americani più numerose di quelle delle rappresaglie tedesche e degli stupri compiuti dai marocchini in provincia di siena anche sui maschi domanda le bombe degli alleati un tabù ancora più del portone chiuso del 25 aprile a milano la gente pensa che la gorla sia una fermata della metropolitana il 20 ottobre 1944 gli americani bombardarono la scuola elementare nel quartiere di gorla 703 morti 200 bambini chissà gli anatemi panza alzo le spalle di fronte a tutti gli anatemi vado per la mia strada sorrido di fronte al fatto che la sinistra non mi ha più invitato a nessuno dei suoi dibattiti mi ha escluso persino da quella parte di tv pubblica che ancora oggi controlla niente fabbio fazio niente re tre la verità è che la sinistra e la tv rossa non sono più decisive per il successo di un libro sino oggi il sangue dei vinti ha venduto un milione di copie e anche libri successivi hanno avuto tantissimi lettori una montagna i libri si vendono fanno scandalo l'eredità della resistenza nel dna del terrorismo proprio non potrà piacere all'italia ufficiale questo libro e già non gli piacerà le brigate rosse si dichiaravano esplicitamente eredi della resistenza ripeto perché non avesse ben sentito le brigate rosse si dichiaravano esplicitamente eredi della resistenza in questo libro ci sono anche i temi che la retorica resistenziale ha sempre considerato inesistenti la ferocia messa in mostra da entrambe le parti che si combattevano quella partigiana e quella fascista e lo dico soprattutto ai giovani che studiano menzogne la guerra civile è inutile difendere a spada tratta l'una o l'altra parte che quando c'è una guerra civile ci sono situazioni assurde da tutte le parti però la retorica della resistenza ci dice che ci furono solo da parte dei fascisti mentre i partigiani erano tutti santi i partigiani che arrivarono a violentare una bambina di 13 anni a torturarla vabbè vado avanti a bogli nel piacentino c'era un lager destinato ai prigionieri fascisti venivano lì torturati e uccisi non avete sentito bene lo ripeto a bogli nel piacentino c'era un lager destinato a prigionieri fascisti che li venivano torturati e uccisi e poi il connotato di fondo della nostra guerra partigiana il terrorismo politico volto all'eliminazione di migliaia di fascisti quasi sempre civili e non in grado di difendersi nel mio libro azzardo in giudizio la guerra per bande è sempre stata secondaria rispetto alla tattica del terrorismo diffuso identico a quello delle brigate rosse ma su una scala enormemente più vasta la storia nega dignità alla memoria e c'è un altro tema porbito l'eliminazione degli antifascisti che non accettavano la supremazia del partito comunista un caso nel libro racconta quello di franco anselmi il pioniere della guerra partigiana sull'appennino alessandrino quello della morte misteriosa del socialista giuseppe bentivogli ucciso nelle ore della liberazione di bologna e democristiano giuseppe fanin assassinato nel novembre 1948 quando la guerra civile era finita da più di tre anni e questi uccidevano ancora la guerra civile era finita da più di tre anni e i cari partigiani uccidevano ancora la storia quella in cattedra sottrae verità la memoria per fortuna ci sono i curiosi ed io sono un curioso e mi piace molto ascoltare allora in conclusione ripeto che tutto quello che ha scritto panza è stato documentato gli è stato dato il fascista lo hanno boicottato e così via hanno sempre la sinistra utilizzato questi strumenti e questi sistemi anche in questo momento stanno attaccando me con gravissime offese e minacce ma non mi fate paura io mi ritengo persona libera non sono fascista l'ho già sottolineato e specificato tengo molto alla verità sono uno studioso che però ama ricercare anche non solo per quanto riguarda il fascismo ma anche per altri argomenti storici di vedere anche la posizione dei vinti e di storici obiettivi come giampaolo panza bene cari amiche cari amici un pollice su per il mio lavoro e sempre incollati al decimo toro un caro abbraccio a tutti marco cosmo